Ciao a tutti, sono Zefi e in questo video vi parlerò di tutte le origini e le classi che ci sono all'interno di Teamfight Tactics, andando ad analizzare anche quali campioni appartengono a quali categorie. Vedremo tutti i bonus e in che modo funzionano per cercare di creare più sinergie possibili all'interno della vostra armata. Partiamo dai demoni. I demoni hanno la possibilità di bruciare del mana al nemico quando lo colpiscono con gli attacchi base. Bruciare mana vuol dire consumare il mana nemico facendo danno puro equivalente alla porzione di mana che è stata bruciata. Con due demoni all'interno dell'armata avrete 30% di possibilità di mana con 4 demoni sarà 50% e con 6 demoni 70%. I demoni sono Aatrox, Brand, Elisa, Evelyn, Morgana, Swain e Varus. I dragoni sono dei campioni super forti soprattutto se riuscite a sbloccare il bonus. Esistono solamente due dragoni all'interno di Teamfight Tactics al momento che sono Aurelion Sol e Shyvana. Riuscire ad avere due di questi dragoni li rende immuni al danno magico quindi può essere davvero davvero molto forte soprattutto contro dei team che si basano molto sul riuscire ad uccidervi con la magia. Abbiamo poi l'origine degli exile. In realtà l'exile dovrei dire perché c'è solamente Yasuo al suo interno e la sua passiva in realtà ce l'ha sempre proprio per il fatto che può essere solamente una persona all'interno. È anche una passiva parecchio interessante perché all'inizio della battaglia se lui si trova isolato quindi non ha nessun alleato vicino guadagnerà uno scudo equivalente al 100% della sua vita massima. L'origine glaciale ha molti più campioni perché al suo interno vediamo Anivia, Ashe, Braum, Lissandra, Sejuani e Volibear e è molto forte perché permette agli attacchi dei campioni all'interno di questa categoria di stunnare i nemici per due secondi. Se abbiamo due campioni glaciali all'interno della nostra armata abbiamo 25% di possibilità di stunnare, con quattro campioni diventa 35 e con sei campioni 45%, quindi praticamente un attacco su due stunnerà uno dei nostri nemici. Gli imperiali hanno una passiva molto forte perché permette loro di fare danno raddoppiato. Se sono due all'interno di un'armata il danno di un unico imperiale scelto a caso verrà raddoppiato per tutta la battaglia. Se per caso riusciamo ad avere quattro imperiali all'interno della nostra armata tutti gli imperiali faranno danno doppio. I campioni all'interno di questa categoria sono Darius, suo fratello Draven, Katarina e Swain. I nobili sono un'altra categoria molto interessante, al suo interno vediamo Fiora, Garen, Kyle, Leona, Lucian e Veina. E se riescono ad essere tre all'interno della stessa armata guadagnano 100 armatura e 35 vita per ogni attacco che fanno. E questo viene assegnato ad un alleato scelto a caso. Se invece riusciamo ad avere tutti e sei i nobili tutti gli alleati avranno questo bonus quindi saranno estremamente più resistenti perché 100 armatura non è niente di cui scherzare su questo gioco e curarsi di 35 di vita per ogni attacco ci rende molto molto più resistenti sulle battaglie e soprattutto quelle lunghe. L'abilità dei ninja è davvero interessante perché funziona solamente se abbiamo un unico ninja oppure se abbiamo tutti e quattro i ninja. Averne due o averne tre non ci dà nessun tipo di vantaggio. I ninja sono Akali, Kennen, Shen e Zed. Nel momento in cui ne abbiamo uno quel ninja guadagna 40% attack damage. Nel momento in cui riusciamo ad averli tutti e quattro tutti i ninja guadagnano 60% attack damage quindi diventano davvero molto più forti. Abbiamo poi la categoria dei pirati dove vediamo ovviamente Gangplank, Graves, Miss Fortune e Pike che permette se si hanno tre pirati di guadagnare quattro gold aggiuntivi dopo aver combattuto contro un altro giocatore quindi dopo ogni round pvp si guadagnano quattro gold in più. Molto buono da un punto di vista economico però ovviamente in battaglia non offre niente. I campioni con origine fantasma sono Carthus, Kindred e Mordekaiser e se per caso ne abbiamo due all'interno della nostra armata abbiamo la possibilità di maledire un nemico all'inizio della battaglia abbassando i suoi hp a 100 immediatamente. La sfortuna è che questa maledizione funziona su un nemico a random quindi può permetterci di magari far fuori uno dei tank davvero in fretta ma allo stesso modo potrebbe andare ad abbassare gli hp di un carry nella backline che non possiamo colpire che continuerà a fare tranquillamente il suo lavoro per tutta quanta la battaglia. Come robot ce n'è solamente uno infatti il bonus lo guadagna stando da solo e gli permette a Blitzkrank di ottenere il full mana nel momento in cui parte la battaglia quindi lui immediatamente lancerà la sua abilità che è il rocket grab quindi porterà il nemico più lontano da sé vicino a se stesso. Un'altra categoria è l'origine del void dove vediamo Chogat, Kassadin, Kazix e Rek'Sai e se per caso e se raggiungiamo tre campioni di questa categoria all'interno della nostra armata i loro attacchi base ignoreranno 50% dell'armatura del nemico alzando notevolmente il quantitativo di danno che possono fare. Un'origine che ha parecchi campioni al suo interno è l'origine wild fatta da Ari, Nara, Nidalee, Rengar e Warwick che permette loro di guadagnare dell'attack speed aggiuntiva che addirittura si accumula in base alle stack quindi più attaccano più riescono a guadagnare queste stack di fury che aumentano ulteriormente l'attack speed fino ad un massimo di 5 volte. Se abbiamo due di questi campioni il bonus di attack speed va solamente agli alleati di origine wild. Se invece riusciamo ad averne quattro tutti i nostri alleati avranno questo bonus quindi questa è una passiva molto molto forte perché ci permette di colpire più in fretta e generare più in fretta del mana. L'ultima origine che vediamo sono gli Yordal composti da Nara, Kennen, Lulu, Poppy, Tristana e Veigar e gli attacchi contro gli alleati Yordal hanno una possibilità di mancare. Se ne abbiamo tre la possibilità è del 20%, se ne abbiamo sei la possibilità diventa addirittura del 50% quindi sono molto buoni per resistere gli attacchi base da parte dei nemici. Andiamo a vedere invece le classi. La prima classe che vediamo sono gli assassini composti da Akali, Evelynn, Katarina, Kazix, Pyke, Rengar e Zed. Nel momento in cui raggiungiamo tre assassin sblocchiamo la possibilità di saltare sul nemico più lontano all'inizio del combattimento e fare danno aggiuntivo con i critical strike. Su 3 abbiamo 150% di danno critico, su 6 arriviamo addirittura a 350% di danno critico e questo rende una combinazione di molteplici assassin davvero molto molto forte nel gioco. I Blade Master hanno 35% di possibilità di fare danno aggiuntivo su ogni attacco. Se ne abbiamo due sarà un attacco aggiuntivo, se ne abbiamo quattro saranno due attacchi aggiuntivi. Questi campioni sono Aatrox, Draven, Fiora, Gangplank, Shen e Yasuo, praticamente tutti quelli che hanno una spada in mano. I Brawler guadagnano bonus aggiuntivo alla vita massima. Se ne abbiamo due hanno 300 HP bonus, se ne abbiamo quattro hanno 700 HP bonus, quindi davvero buono per i tank. In questi campioni vediamo Blitzrank, Chogat, Rek'Sai, Volibear e Warwick. Gli Elementalist sono anche loro una classe molto interessante perché la loro abilità di base permette loro di guadagnare doppio mana dagli attacchi, quindi generano le proprie ultimate più in fretta. Quando raggiungiamo tre Elementalist all'interno della nostra armata, all'inizio della battaglia summoniamo un Golem, quindi una specie di grossa Daisy o Blue Buff, non sono sicurissimo di cosa sia, che va in giro a colpire nemici, a tankare al posto nostro e così via, quindi davvero una combinazione molto forte. I Guardian sono un'altra combinazione molto forte, abbiamo Braum e abbiamo Leona, quindi sono gli unici due che possono far parte di questa categoria al momento e all'inizio del combattimento se ne abbiamo due, tutti gli alleati attorno ai nostri guardiani guadagnano 30 armature aggiuntive, quindi è importante disporne in punti diversi della nostra armata in modo che più persone riescano ad ottenere l'armatura aggiuntiva. Abbiamo poi i Gunslinger che dopo ogni attacco hanno un 50% di probabilità di fare un attacco aggiuntivo, quindi simile a quello dei Blademaster però per chi utilizza delle pistole o dei fucili. Se abbiamo due campioni di questa categoria attaccheranno un nemico a random, se ne abbiamo quattro attaccheranno tutti i nemici che sono nel range. I campioni all'interno di questa classe sono Gunplank, Graves, Lucian, Miss Fortune e Tristana. Cavalieri. I cavalieri bloccano i danni dagli attacchi base. Se abbiamo due cavaliere bloccano 20 danno, se abbiamo quattro cavaliere ne bloccano 40 e con sei arriviamo addirittura ad 80 danni bloccati su ogni colpo base. Fanno parte di questa categoria Darius, Garen, Kyle, Mordekaiser, Poppy e Sejuani. I Ranger sono gli adicare che colpiscono da lontano con degli archi o delle balestre. Il loro bonus è che hanno la possibilità di raddoppiare il loro attack speed per i prossimi tre secondi. Avendone due abbiamo il 25% di possibilità che questa cosa procchi, avendone quattro abbiamo il 65% di possibilità e vi ricordo che l'attack speed non solo determina il danno che facciamo, ma determina anche quanto spesso possiamo utilizzare la nostra ultimate. Campioni all'interno di questa categoria sono Ash, Kindred, Varus e Vayne. Abbiamo poi gli Shapeshifter che guadagnano bonus alla vita massima quando si trasformano se sono tre all'interno della nostra armata. E qua dentro abbiamo Elisa, abbiamo Gnara, Nidalee, Shyvana e Swain. Come ultima categoria vediamo i maghi che guadagnano doppio mana dagli attacchi. In più i propri alleati, tutti quanti, non solo quelli della categoria dei maghi, hanno spell damage aumentato. 35% se abbiamo tre maghi sul campo di battaglia, addirittura 100% se abbiamo sei maghi sul nostro campo di battaglia. I campioni che ne fanno parte sono Ari, Aurelion Sol, Carthus, Cassadin, Lulu, Morgana e Veigar. Detto questo abbiamo finito sia le classi che le origini. Fatemi sapere nei commenti cosa pensate che sarà più forte e soprattutto cosa vi attirà di più e cosa pensate di voler provare una volta che il gioco uscirà. Grazie a tutti per aver guardato il video fino alla fine, alla prossima, ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti!